Tira fuori il meglio di te è un corso che ho preparato perché mi sono reso conto che tante persone hanno un potenziale che non sanno raggiungere, non sanno nemmeno riconoscere e purtroppo la loro capacità di rimanere concentrate sulle loro qualità è scarsa. Tira fuori il meglio di te è un corso che attraverso video e discorsi semplici, diretti, immagini che si fissano nella mente ti aiuta a riconoscere il tuo potenziale. Quando capisci che c'è un potenziale allora riesci anche a vedere una visione più allargata. Questa visione la collochi all'interno di una prospettiva invitante, quindi non è soltanto una visione che tu vedi dall'esterno ma capisci che è una strada da percorrere che ti porta verso un futuro migliore. Questo è il senso generale del corso. Nella pratica affrontiamo argomenti che di solito non si sa come gestire, ossia che cosa faccio quando mi trovo un ostacolo? Ho l'autostima bassa? Come posso rispondere? A me piacerebbe cambiare, ci ho già provato, ma poi mi accorgo che non ce la faccio, oppure non ho metodo. Come si prepara un piano? Come si rispetta un piano? Queste sono le domande pratiche che ogni giorno come life coach io ricevo e allora ho detto d'accordo, d'accordo, voglio spiegare dal principio sino alla fine attraverso 12 video molto agili, voglio spiegare come si fa a riconoscere le proprie capacità, ristrutturarle in un contesto dinamico, vivo e portare queste capacità ristrutturate alla creazione di uno stile di vita migliore. Questo corso ti va bene se sei confuso, non sai cosa fare, ci hai già provato e hai fallito, non sai da che parte andare, oppure mi conosci attraverso i video, hai già preso altri corsi, ma ancora non riesci a far quadrare tutte le parti. Hai bisogno di una visione globale e al tempo stesso snella, veloce, perché devi concludere, devi poter afferrare quei 4-5 concetti essenziali che ti consentono di sapere esattamente cosa fare. Tira fuori il meglio di te. Te lo dice il titolo, esattamente questo corso è una promessa e una realtà. Ti prometto che arrivi a tirar fuori il meglio di te e tu ti rendi conto che tiri fuori il meglio di te, facendo esattamente quello che ti spiego. È semplice, il linguaggio è chiaro, gli esercizi sono facili, non ti spaventare, senti la parola esercizi, non sei a scuola, stai facendo un investimento su te stesso. È una conversazione a distanza che facciamo tu ed io per mezzo di video, di audio e di strumenti che sono dei documenti pdf. Quindi tu usi i tuoi dispositivi, il computer, il tablet, il tuo smartphone, puoi anche vedere sul televisore questi video così li vedi belli grandi e segui le indicazioni. Io sono qui, ho preparato questo percorso mettendoci gli elementi essenziali che rapidamente ti portano a capire cosa ti serve nella vita. Che tu abbia le idee confuse o che tu abbia le idee per metà confuse ma ti manca quel pezzetto per concludere, tira fuori il meglio di te. È il corso che definitivamente ti porta chiarezza e accende la tua voglia di vivere. Tira fuori il meglio di te. Il momento è adesso. Clicca e tira fuori il meglio di te.